Possano i nostri occhi essere luminosi, pur nella fatica, pur nella difficoltà, pur nelle cose. Ecco, forse tante di quelle cose che ha detto San Paolo le possiamo riprendere anche noi per la nostra vita. Ma ci doni il Signore, al di là di tutto questo, l'esperienza di quell'incontro. L'Eucaristia è questa possibilità, è questa opportunità, l'opportunità di incontrare il volto di Gesù. Lo possiamo vedere, ecco, nella Sua parola, nei Suoi Santi, nei fratelli che ci sono a fianco. Ma è il suo dono, è dono dello Spirito, è dono di Dio questa capacità. Davvero di cuore l'augurio a tutti voi per questi giorni, per il lavoro che state facendo, ma soprattutto per il cammino che ci sta di fronte, che insieme siamo chiamati a percorrere.